Eccoci qui, buona serata, un saluto come state, un abbraccio a tutti, mi invito come sempre a commentare, a lasciare un like, a iscrivervi, giornata di vigilia che sta per finire perché tra poco insomma sarà già giornata di partita, volge al termine questo lunedì con un'ottima notizia per quanto riguarda il Milan perché ha lavorato in gruppo Rafa Leao, quindi Leao è clinicamente guarito, tecnicamente recuperato, ha tutti gli effetti convocabili nella giornata di domani. Quando ci sarà l'ultima mini rifinitura, Pioli si tiene ancora una mini rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi, però ecco, stando così le cose, ripeto, il recupero di Leao lo porterà, e questa è una bella notizia per il Milan, una gran bella notizia, lo porterà a giocare dall'inizio, quindi il Milan rispetto alla gara di andata acquisisce un potenziale offensivo decisamente superiore e recupera il suo giocatore più importante, il top player del Milan, appunto Rafa Leao, che dovrà partire dall'inizio appunto, con Salema anche sulla destra, Brian Diaz al centro a supporto di Giroud, che non è ancora al top, ha questo problema al tedino con cui convivo ormai da diverso tempo, oggi c'è stato un lungo colloquio tra Pioli e Orighi, non credo sinceramente possa essere però la carta sorpresa dall'inizio. Senza Ben Nasser è ritornato in gruppo anche Krunic, a suo fianco Tonali, dietro Ternandez Calabria, al centro con Tomori ci sarà Chao, che è in piazza Kier, in panchina Calulu, in porta ovviamente Mignan. Una vigilia quindi con un completo, possiamo dire, pressoché completo recupero di Rafa Leao, che tra l'altro sui social ha scatenato i like dei tifosi rossoneri con un commento un po' filosofico, in cui si suona la carica per la gara di domani in cui non è detta l'ultima parola. Ditemi cosa ne pensate, siete contenti del recupero di Leao? Passa attraverso le sue giocate la speranza di provare a rivoltare il verdetto? Secondo me sì, se c'è una speranza quella passa da Leao. Commentate qui sotto, iscrivetevi e lasciate un bel like. Lavoro invece personalizzato sul campo per Messias, vedremo domani se sarà convocato oppure no, mentre Krunic dovrebbe partire appunto dall'inizio con Tonali, ho già lavorato in gruppo. Un saluto a tutti, ciao!